Ecco, guardate qua i rovi che spuntano, sono altezza bimbi, questa siepe è piena, questo addirittura mi arriva a altezza occhi, questo è lo stato delle siepi, ma quello che è ancora più bello è questo, guardate che spine che scende giù piano piano in mezzo al verde, ecco ci passa un figliolo si fa del male, poi andiamo a vedere lo stato delle panchine, ecco questa sarebbe una panchina vicina alla siepe, dove uno magari potrebbe prendere anche un po' di fresco durante qualche ora della giornata, a parte che il fatto che la panchina non esiste più, però guardate anche i rovi che ci sono intorno e quelli che praticamente ne hanno preso possesso, guardate qua, anche fosse sana non sarebbe utilizzabile, poi qui in mezzo al giardino ci sono due grosse buche e fonde, perché se uno si mette il piede, guardate qua quanto si cade, si sprofonda, è questa qua, guardate che bellezza, ci corrono i bimbi, guardate qua, altro che male, il bimbo ci si rompe è una gamba, poi passiamo alle bellissime altalene, dove chiaramente ce ne erano due, ma da molto tempo ci dicono residenti e ne è rimasta una sola, questa è una panchina davanti all'altalena, guardate voi in che condizioni è, qui la vernice sembrano secoli che non ci sia stata ridata sopra, passiamo ora anche a quest'altra panchina, dove guardate qua, il legno praticamente è marcio e tutto scavato, guardate come è scavato il legno, queste sono le condizioni delle panchine del parco,